Lorenzo, partita in Coppa Italia, un gol, potevi sperare qualcosa di meglio per stasera? Sicuramente non si poteva sperare di meglio, gol, vittoria, sono felicissimo che abbiamo fatto una buona prestazione soprattutto che abbiamo portato a casa una vittoria importante Durante la settimana il mister da quando ha provato la difesa a quattro ti prova anche come terzino sei tornato a giocare terzo di difesa, hai capito bene o male ancora qual è il tuo ruolo? Io sinceramente cerco di adattarmi e di giocare dove il mister pensa che io possa giocare, cerco di adattarmi In difesa stasera non avete corso particolari pericoli, quindi credo che tu possa essere soddisfatto? Sono felice, a mio parere abbiamo fatto una buonissima prestazione dal primo all'ultimo e se non abbiamo corso pericoli in difesa merito secondo me di tutta la squadra che ha lavorato bene Il gol ce lo descrivi, merito anche di De Feo per come ha messo quel pallone in mezzo o merito soltanto tuo? Sicuramente merito anche di De Feo perché se no la palla da sola non arriva però sono felicissimo, dopo aver fatto il gol non capivo più niente, sono andato dai compagni a esultare con loro Un momento della roba in cui diceva il mister Azzori, vi mancava soltanto il risultato? Purtroppo nelle ultime due gare abbiamo subito il gol all'ultimo minuto, questa è una vittoria importante pensiamo positivi dai Adesso ti candidi per una maglia da titolare anche in campionato, ci speri? Io continuo a lavorare, a dare il massimo, poi cerco di sfruttare le occasioni che mi vengono date